ciao a tutti amici di brontolo oggi siamo qua a pattada per il nono palio dei comuni del monte acculto il palio prevede la partenza di 11 cavalli anglo arabi sulla distanza di 1600 metri avremmo tre categorie la prima è già alla mia spalle si tratta della corsa dei cavalli locali il secondo è abbinato ai cavallini della giara e il terzo in chiusura è quello degli anglo arabi categoria così composta con numero 1 wolverine montato da simone mereu da simone fenu il numero 3 talette sardo montato da giuseppe piccino il numero 5 valoroso montato da reneo cavittu numero 6 tai tai gianluca faes numero 7 rija id con sandro gessa zemagliolo marco pitti oro portato da pasquale salis manita montata da portato d'arturo lai e di lo che chiusura di ricorsa portata da simone mereu è quasi tutto pronto siamo pronti a partire con la prima categoria che vedete già alle mie spalle ci sarà da divertirsi a dopo ciao